Finesce la palla, vieni fuori! Ma fai entrare subito, perché non fai entrare? Ma fai entrare già nel secondo tempo subito, no? Tanto non è partita che dici, sai, devi vedere come va e come non va. Chi è Peppe? Quello è il numero, numero, numero. Evan, vieni! Dategli un pallone, dagli un pallone Michael. Brian, vieni, vai a fare la centrale. Eccolo, eccolo. Gol? Non fuori. Bri, non ti andare a cambiare che dopo rientro. Se ce la fai, eh? Ce la fai? Ma vedi la faccia di quello che ce la fa? Ce la fa. Va bene, raga, va bene, va bene, va bene. Chi è, Simo? No, la mezza girata. Devo corrompere Luca. Sì, la faccia di ancora, la faccia. Sì, la faccia di ancora, la faccia. Vieni! Appoggio! Appoggio! Ancora, d'acolo! Venga, una smette, eh! Una smette, Simo! Simo! Vieni, Simo! Vieni, Simo! Dai! Simo, stai più largo, perché sennò, perlomeno, lui sarebbe un buco in mezzo. Chi è quello che cammina là dietro? Ah, Eva. Adesso, ma... Stai largo, Stai largo, Simo! Simo, una, due! Arti da due! Fermatilissimo! Ora taglio! Ma sì, ma tanto, tanto. Rientra, rientrate, rientrate! Sì, ma... Sì, ma tanto, tanto. Nel senso che, oggi sul piede forte, tu ti fai dare palla, ti apri bene, ciao, ciao, ti fai dare palla.